Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come migliorare la concentrazione. Oltre l'energia vitale di cui vi ho parlato nel precedente video, potete migliorare la concentrazione. Ma in che modo? Per l'energia vitale vi sono le terme. Per la concentrazione invece vi sono praticamente gli spezza bambù, che sono questi. Adesso ve li mostro. Eccoli qua. Ci sono 16 spezza bambù nel gioco. Sono bambù, alla fine, che vengono rappresentati sulla mappa di gioco dall'apposita icona e sono questi. Praticamente avvicinandovi agli spezza bambù dovete completare un minigioco nel quale dovrete premere i tasti sul controller che vengono richiesti per tre volte velocemente per poter ottenere un incremento della concentrazione. Gli spezza bambù possono essere individuati con fortuna, uccelli d'oro e il nostro amico vento. Quindi se avete punti da spendere andate su samurai e potenziate il vento della determinazione che, come nel caso delle sorgenti termali, vi guiderà gli spezza bambù che vengono rappresentati sulla mappa dall'apposita icona. Ora non le trovo le icone perché praticamente mi sono teletrasportato in una delle icone spezza bambù, ma comunque sono facilmente individuabili sulla mappa perché hanno appunto, eccola qua, l'icona dei spezza bambù, vedete? Se trovate questa icona allora potete espandere la vostra concentrazione.